buon salve a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video su pepeg allora questo è un gioco fantastico e ci dirà che cosa ne pensi Emanuele? Emanuele cosa pensi di questo gioco? penso che sia il gioco più bello che Origine abbia messo come gioco gratuito e oggi come potete vedere stiamo andando a giocare una partita in duello è un gioco veramente ricco di livelli, di avventura e soprattutto è pieno di azione cioè quando sei lì al momento e lanci quella palla per coprire e gli obiettivi ti viene da piondere con la festa estrema ok iniziamo con un duello oggi come potete vedere siamo in compagnia facciamo un livello casuale ok sfida un amico tu fai il castor o l'unico? io l'unico, l'ho unico ok quindi io ho il castor, gli altri non esistono sono io vero? sì questo sono io allora lo scopo del gioco vogliamo ricordarlo è quello di colpire tutte le cose rosse arancioni insomma ah vabbè e se la pallina entra in basso che continua a muoversi si ha una pallina in più cioè la stessa che viene rigenerata tipo vabbè dai muoviti allora io sono giocatori due si si giocatori due, non puoi mettere il nome mi sembra dai muoviti qua iniziamo allora in questa partita come potete vedere vince che fa un tiro di merda ok lo sto quadruplicando come potete vedere scusa adesso prendo la palletta verde che mi dai poteri magici non la prendo bella è bazzata eh scusa adesso la prendo io ovviamente no tu non la prendi eh scommettiamo ti ho spianato la strada ma vaffan... scommettiamo che non la prendo fai vedere che non la prendo dai muoviti vabbè è la super guida no 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 vaffan... siiii aia le cuffie vabbè comunque sto vincendo adesso la prendo anch'io dai mi sono nato ma valle io e ho colpito pure... ho fatto 25 mila punti se non ti dai una mossa hai perso uff... che palle che sei ahahahahah hai capito il doppia s*****o no che sei cosa stai giocando guarda che bel t***o che hai fatto NO siiii dei t***o sono veramente calcolati allora vabbè i miei vedi guarda... 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 no affan... c'è un festometro sulla parte destra dello schermo che non sappiamo cosa significa eh non lo s*****o ok quindi adesso la festa estrema ce l'ho io no? è stato bellissimo dovrai riuscire a colpirlo vai no 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 ma la cosa ti colpito? non è la stessa cosa no si si guarda no ma no scasso eh vabbè dai non è andata n'andata funca la festa intanto mi ha dato 30 mila punti in più ehm va bene allora spero che vi sia piaciuto questo no non è vero ne facciamo un altro era un fake ehm giochiamo un livello a cado comunque ti devo far vedere che fai ancora l'unicorno vuoi fare il... no 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 va bene fai il castoro e se facciamo tutti due il castoro o non si può? mmmm si si può ma io non voglio farlo perchè c'è la musica rosa? non lo so però io faccio... quindi questo sei tu inizi tu adesso io sono il castoro lo scopo è quello di prima non sei... si si yeah no yeah yeah guarda che culo you and I ok hai fatto 13 mila punti quindi se io prendo questo puntino rosa no 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 fa la cacca cioè mi ha tolto il 25% dei punti sto c***o ho fatto il tiro lungo bravo 6 mila ehm stavolta scusa chi è che sta... adesso guarda... no 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 adesso guarda com'era super guido ah si senti è andata bene va guarda ho fatto pure 2 mila punti stile che culo guarda che culo non è culo no dai ci stavo per centrare il canestro ah già che io ho la super guida aspetta eh dai c'è e è scattante questa musica no ha fatto c***are questo tiro proprio no beh se mi centrai il... no ha fatto c***are perchè si è sentita la musica rock? perchè è troppo virtual si no sii con l'altra ragazzi eh questo giro la vedo tu la vedo dura la vedi turpa che non so che si chiama turpa guarda no no offuscato guarda 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 è un giro offuscato sii no comment no però non ti sto recuperando oh cosa faccio adesso la testa estrema la piglia lui guarda andiamo di c***o guarda andiamo di c***o no guarda che c***o sii andiamo di c***o l'ho anche detto andiamo di c***o guarda che... no sii cos'è sta c***o? perchè c'è un'altra? se prendi il 50 mi... ah ti è andata bene dai siamo uno a uno io direi di fare l'ultimo per... vabbè facciamo anche l'ultimo questo è quello di spreggio la bella insomma la bella sarebbe ok guarda che bel livello che tu fai ancora il castor guarda questo tiro adesso sono io questo che tiro eh? si però che tiro storto madonna be... si 21.000 punti no 23.000 ma c'è la testa cosa di qua adesso bravo no complimenti che tiro di m***a adesso guardate come si fa eh? eh? scasso no ecco che scarso ti ho... novecentuplicato bello veramente bello ma che c***o guarda che c***o madonna si chiama style ha fatto 27.000 punti guarda mi ha doppiato sto shane oh yeah mi ha recuperato dai cos'è sta ro si ma lei ti va anche ma te vai ho fatto 2.000 punti stai zitto che poi non esiste il facile e il difficile in questa montagna nooo ma dai però tu fai sempre più punti di me eh yeah si chiama il gameplay di fiumisaigi terribili guardate qua adesso provo a fare una cosa lo chiamavano lo chiamavano l'unico merda nessuno mi ha tolto il 25% dei punti la vedo dura questo giro ma guarda che buco no mi ha appena colpito il bagancione però prima esatto volevo fare questa cosa prima volevo fare è la mia ultima la mia ultima opportunità per recuperare guardalo merda cosa che tiro di che tiro di no non posso fare la festa estrema come faccio beccare non puoi farla quindi la faccio io la festa estrema se la se fa la feste oh bravo che besta ho un'altra palla si ok che merda mi va male adesso prendo anche il 50.000 punti guardalo guarda cosa serve la superguida guardalo no 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 dai mi hai recuperato no aspetta si ti ho recuperato no di 300 punti eh vabbè tanto a me è peggio ho vinto io ho vinto io dai sei scarso vabbè ragazzi abbiamo finito se no la devo finire che stasera sogno unicorni che unicorni vabbè ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi